Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci e code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 in Cisareggello. In direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico sulle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Spostandoci sull'Afipili in direzione Firenze e code per una perdita di carico tra Pisa Centro e Pisa Aeroporto e rallentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione Mare e code per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e la Strassigna e in uscita alla Strassigna. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!